FAMMI PASSARE DIVO DI ME! PERCHE MI HA PESO ARRI, MADONNA? PORCO DIO! Chi ha preso FEDA? METE PRESO TRE CAMPIONI, MANNAGGIA DI QUEL JESÚ! Quale Gesù? C'hai Blitzcrank, ma meglio di così, porco Dias! Ma infatti! Cosa qua, che si chiama... RECSAI, PORCO DI GESU! RECSAI, PORCO DI GESU! RECSAI, PORCO DI GESU! RECSAI, PORCO DI GESU! VARO UN TEAM BRAWLER, C'E CAZZO DEVO FARO? Blitzcrank andava bene in combo con Warwick Perchè sono entrambi combattenti E' un team brawler estervaggio Fede, fate un team brawler estervaggio Fa schifo No, io ci ho vinto C'è, sarò pure una pippa io Però... Che se la può fare a fare la seconda ordata da solo? Cioè, con un campione? Sì, con Shen si Shen si fa anche la terza ordata da solo La donna Sì, me la facevo Ah, è bellissimo Prende un campione e poi se lo vedo L'oggetto al massimo Eh, con la... L'arcura curva Tanto, la cosa buona è che se... Perchè è Kritta? Perchè Kritta e c'è il 40% di attack speed perchè è un ninja Perchè Ma secondo me... Perchè 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 Bang Bang Perchè Guarda Per Bang Bang intendi la canzone Nella film sono cantiti tre nobili che stavano andando via perchè... Fanno schifo Che canzone è Bang Bang? Ma io se me lo sai È la canzone della Dark Polo Gang Ehi No, peggio Sì, lo so Armi Donde worry B.A.P. Ffff Don De Worry Bo-bo-bo-chici Bo-bo-chici Bo-bo-chici Bop-cici Che pavero Mi sta capicendo un cazzo di quello che voglio Sì, tofra Torna quando sarai in protabolista te l'ha detto comunque sto provando un'altra posizione ancora se vi interessa fra è un carattere secondario vediamo fra che sta provando yordon o no? che è selvaggio? vabbè l'ho visto ancora no selvaggio è una cosa secondaria che mi è capitata per culo quindi stai andando stregone perchè mi ha messo Grinzel giù porco dio credo nooo ma che è quel Garen? perchè non prende danno? beh ho perso ma meglio vedi che lei che hai perso ho capito che è il bonus dei cavalieri ma non prende danno è da livello 2 jesucristo vai cassa di nirli cassa di nirli è molto triste ah fuck il baiante vince no non è vero cassa di nirli tanto cassa di nirli è bello in nirli cassa di nirli è veramente forte è opprimente oh che palle perchè non mi sta capitando nulla sentite ho dimmi o zedan chiunque sia come mangia ho comprato tutto l'appolo dei cenni io non sto comprando niente perchè aspetto che mi escono i campioni e intanto c'ho l'intervento cassa di nirli madonna mi ha asfaltato sto tizio eh vabbè eh ho giochi di nirli 2 c'è tutti i cazzi nooo ma io non c'ho anche questi baggi che cazzo ah per baggi quando sono in giro comunque il baiante fa veramente cagare eh? ma il baiante è fortissimo il baiante è forte il baiante è fortissimo ma state scherzando il baiante è fortissimo ma fa abbastanza cagare dai gude vabbè oh vero varo 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 non 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 chi ha guarda fede c 3,4 campioni tu vorrei dire comunque e mi sta assassinando tristana Vabbè, Warwick ha letteralmente tirato via l'Ultimate Ah, sì, perché Rosetta Orghetta ha quello che c'ha meno vita Madonna, vingi due Vabbè, poi mi rendo pure il danno bonus Perché ho ucciso Dain Cioè, Dimo e c'ha l'ira di Dio Tiro Balduo C'è una magliela Veramente forti i miei campioni Abbiamo visto quando è capitato Non siamo anti Blitzkrank che non ho preso Io sono ancora 100 però Non me ne serve uno Prondo lì per la spatola Non me ne serve uno Come fa sta questa La Che cazzo qua Ma fancazzo se non c'è aria Ma fancazzo se stai andando stregone pure No Ok No 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 Non sto andando stregone Ma se sta andando stregone Che la sei fatta sotto eh Tantissimo Io sto perdendo apposta eh No, ne ve lo credo perché faccio schifo Ottimo, ma c'è una, c'ha Katarina al 3 Ah no, ah no Katarina al 3, madonna, non calma Sì, no, dicevo Ciao Rikki Ho visto male, l'effetto di un altro oggetto era Stavo a dire che cazzo Comunque c'è notizia che c'ha due spatole Very nice La ulti di Warioop viene sprecata Tipo ogni Quella ulti Ma tranquillo Rikki Tanto come ogni game Tipo dopo Dopo non troverò più niente Ma io non sto trovando niente adesso Zeran Quindi stai tranquillo Io sto Io sono abbastanza fortunato Per ora Perché per il gioco Gangplank è troppo raro Come campione da darmi Sì Sto decisamente Essendo molto fortunato In questo game Ma ho già potenziato Pennell 2 Questo game Ma è un culo Madonna Kennen Sì Questo game ma cosa si fa? Guarda, ho due Blitzkrank nel full Io fino a dopo mi so capito Tipo 7 Blitzkrank Non ne ho preso uno Però quando giovo io Blitzkrank Scarseggia Scarseggia Ma magari il Rikki è sempre lo stesso E di gira e di gira Non è detto Ma cosa? Dietemi Ciao Rikki Madonna Zeran Come si muove sul Zeran Zed questo c'ha Mi prendi Nidali Ah questa c'è un team biazza Sulla face Vabbè C'è Ari che è missa la Q Vedi che è inutile Britzkrank face Ma si può Ari che è missa la Q Ma che schifo di vita E cosa è successo? E cosa è successo? Vedi tu hai visto cosa è successo? Sto solo vedendo che sto perdendo continuamente Ti faccio niente ai 20 e i 30 gold A quello è il problema Gangplank Non ci credo Ho trovato Gangplank Io non ho fatto 2 gold per la serie di sconfitte Che tristezza C'è più 2 gold della serie di sconfitte Io pure c'ho più 2 gold anche se la da Io sono 5 volte che perdo Però c'ho solo 2 gold Eh sì perché arriva al massimo a più 3 Tipo lo è arrivato con 6 sconfitte se non sbaglio This is too sad Alex Io ho un totale complice Eh ma io mi sa che mi fa un micro Il Krag mi fa Io ho Gangplank Mi stanno pure a me? Oh mio dio No tra le distitti Vai 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 Non mi hanno dato neanche un item Dai almeno un altro porco Ma hanno ucciso a me Ma cambia Ma scusate Ma questo cos'è un po' la roba Ma questo cos'è un po' la roba Ma questo cos'è un po' la roba Non mi conta come serie di sconfitte? Sì Porco Dio dai Ma che pizzo di merda Rippe fede Giuro che sto trovando tantissimi stregoni Troppi guarda Mi giuro che non sto trovando un cazzo di nulla invece Basta Blitz Basta 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 Ma piange Io contro Ecco Dimolavedi questa posizione Dimo la vedi 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 questa posizione Oh mio dio Dimo cos'è quel Garen Dimo c'è un sacco di roba Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Ricca, guardate... No, frate... E' lo stesso calderone, frate Oh, io ho appena avventato un team di Atos, quasi Ah, è quello che mi aveva shottato almeno Quello con Cassadin, no? Mi pare E' giustamente un team di Atos, sennò prende Cassadin che serve a me, a me, no? Mì, di carri, Cassadin In Cassadin non è un assassino Guarda, c'è il baule delle sconfitte magiche Non è un assassino in Cassadin? No? No, è un stregone E' uno stregone, Cassadin Mi dà un divorzio, sennò Mi dà va e va, sennò Tirare, bundare, vuole Bunda, signore, bunda, bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Abbiamo due grave, sennò Eeeeh, vai che ti apri No, no, frate, sto messo peggio di dentro Ma tu ti assassin, sto tizio Nessuno può essere messo peggio di me, però Filipe Babè Vedi ho perso contro il tetto assassin BAM Si perdono altri 10 di vita, 11 Guarda la malità Guarda la malità Dai, ma sto in sconfitte di 14.000 io credo Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda Guarda, forse fareggio No 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 Sì, è che sta ancora fightando Ora, perché Brande non è uno stregone Porca puttana, mettete lì anche il coso di stregone, cazzo, Brande No Fanculo Ma non ci stanno stregoni in questo cazzo di gioco di merda C'è VEGAR, c'è Réon Sol, c'è il Dulu Réon Sol è considerato stregone? Sì Ah, peccato che non l'ho mai trovato Uh, Morgana Oh, fra mi ha eliminato, bravo Ah, team Meglio Guarda che mi fai, mate Ma con quale team? Eh, guarda, è il mio Posso fare VEGAR VEGAR te lo faccio Massimo Lulu, non VEGAR Guarda l'arte Eh, vabbè, sono morti tutti però Oh Oh, che c***o Quest'anno non so, ho visto per quest'anno che è stato tratto di attaccio, perché non c'è l'acchio di attacca Beh, metto un champion di una sti cazzo, tanto a me, faccio un cazzo di cazzo di cazzo di anche, e poi Però sono il primo piccare Io sono ben ultimo Da lo stregone che ti interessa Uh, è vero Eh, qual'è c'ho il buff completo che sa stare? Mi sembra che adesso posso avere uno slot in più con le spade Sì 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 Nooo Sì 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 ma vai a fare in culo ma come l'ho ucciso porca puttanari se ti banno dio cane cos'è quel warwick livello 3 questo c'è un culo della madonna e Tristana decide di focussare chi pare a lei che nervoso che nervoso potevo sopravvivere ma dove c'era il 20% di disominare Glashor scusa col caro e adattacento so io adattacento vedi è blitzland ti direi di metterlo più interno che esterno ecco cammino graba da vicino a bolibar graba perché ho un brutto impressione ho un brutto impressione dovresti andare meglio tecnicamente però conto col team elisa gliela sfacci subito a me che qualcuno focuss elisa madonna però l'urgo lasciò 50 OP comunque a casa mia è tipo a casa mia sembrava un ospedale sti giorni perché è pieno di vecchi e con sto caldo di 40 gradi tipo stanno svenendo tutti il tuo Warwick non ha ultato perché Atrox si ha bruciato il mana ne stanno svenendo tipo uno dopo l'altro se fossi attivato avresti vinto il Garen di Dimo è uber forte il Dimo di Garen è uber forte sarà il 35% sana maiala adesso mi trovo Dimo sono morto con quel Garen praticamente immune a tutti i miei danni e ovviamente che mi troverò mai ecco va ho sbagliato il nuovo team enorme boss buoma Organa fa un macello Organa fa un sacco di danni e la conta che non c'è più cosa quindi nulla hai vinto? maaa ricordo che Veigar una shotta a chi è il livello meno di lui infatti Veigar è un botto forte contro i leggendari perché sono quasi sempre a livello 1 quindi Veigar alla fine di una shot oddio però Riccardo mi trovo qualcuno grande fede io non vedo mai contro nessuno no no ah è uguale nessuno bravo bravo dai ma porca puttana ma ero il primo anch'io Yasuo Yasuo Porco Dio Dimo ti odio eh aveva like volevo prendere io Kyle lo so lo schifo no ha preso fede guarda tu fai lo vende e basta per l'oggetto yes 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 oddio eh adesso c'è un ranger fantasma glaciale no lo vende no lo vende ecco hai già provato guarda fede come lo venderà no adesso dai l'arco a blitzcrank no scherzo si stacca? che roba è l'arco più ah due titanic sono oh morgan al 2 ma perchè dai due titanic? perchè dai due titanic non hai fatto unico si staccano? ho capito ma cristo vuoi far carriere da blitzcrank? vabbè quel barus è morto e non ci sono dubbi questo dì c'ha 5 assassin c'è tipo il team che mi counter ti lasse qualcuno c'è il team, i garen che mi counter c'hai? no il cazzo no ragazzo si fa bene di cagare eh uno di vita visto che non vinco oddio pure divo uno di vita ma io è morto avrà superato il team e va bene l'ho fatto perdere per quella che ma il punto è che ti fa credere perchè ti tirano tutta la smitragliata di colpi e poi ti aveva un proiettivino e ti cide è già la seconda volta è successo così io ho io ho lasciato la partita ma prendo in maniera è vero io ho in mente un team per la prossima partita potrebbe essere forte e non dovrebbe fare schifo il punto è che contro il drago io prenderò il cazzo poi stanno da ma bene chi mi sta perdendo no zero nooo perchè ciò significa mi basta perdere una partita e poi ho perso istantaneamente per il drago ma cosa mi hai tenuto fermo con il vuoto ma cosa mi hai tenuto fermo con il vuoto ma ti pare mi sa che abbiamo perso fede ragazzi ma cazzo ulti cioè fa schifo se sei sui giochi mi sa che abbiamo perso fede perchè blitz è un grabbacolo più lontano a lui quindi è tipo brutto vai ash ho ucciso fede ma sei guitto un gioco di merda oh ok ok ma sai che forse 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 oh 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 Prova bene Ci consigliere di mettere Aurelionzol più centrale così buffi tutti quanti Di mettere? Aurelionzol al posto di Nudo così buffi tutti quanti Oddio ho trovato una spatola Wow Ma i portagalli sono Sono pisti i cazzo di pappagalli Ti rischio di evitare Stop Sono 6 e mezzo Non sai felice di me No ma il tizio con tutti assassini Potrei Acherarmi a cerati guardando uscerlo Voglio fare ancora di me Ma tolla Aurelionzol Ma te l'havamo asciottati Ma non la sei la santa Aurelionzol Puttana ma gli ar E' perché c'è un po' di stregone Fa il 100% di danno bonus Ho capito ma figlio Fatti una calmata sperando Mi serve uno Gnar e un Veigar e ho vinto questo game Ma che vai con tutti gli order tu? No però ho il mio cannon a livello 2 con un Rabadon e una GA Ah Trovato un Veigar Molesto Quel Rexha è bruttissimo Ancora a livello 1 Perché la serie di Service Education non mi attira molto? Perché è una merda Ciao Simple Dick Simple Dick Holy shit questo tipo Puttana ragazzo Eh nulla Mi ha fatto Aia Ah che torno Ah che torno Ah il po' Ah che torno Ah che torno Ah che torno Jonas Ah ma è un film questo eh Allora ne lo voglio No Sex Education non è un film No ancora una merda Questa non Farò l'alata Beh al massimo tu sei un film Non so Spero se è più lungo di quello Un'ora e mezzo Comunque io farò l'alata Vado ottimo Hai visto che simpatico Eh che porco dio Ah fra vengi due Mica tanto sai Guarda quel Cassadin Vengi dolante Vado ad all'auroカ Vengi dolante Varlane viceversa Purtroppo Vengi dolante Guarda commerciale Ah ah G Vengi dolante No vabbè sì io lo prendo zato un tanto invece no guarda grazie è rotto cartus ma è uno stregone cartus cartus è uno stregone fantasma ooooh 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 poi c'è già la TR quindi tranquillo ha vinto l'altro ce l'ho già posizionato in campo perchè ha pagato usato la madonna di cà mi è uscito uno shop con due kyle una miss fortune e uno yaso che però non me ne faccio un cazzo comunque fra mi sa che si è un babbuggato togli i pop e i metti cartus no che ci fai con pop in campo perchè mi dà bonus yordo ho perso ah giusto nooo non fa troppi danni da attaccare non c'è ancora da ap perchè andate aia che s***** stavo sistemando il team comp e partire direttamente perchè che fallo devi sperare di sopravvivere che il drago ti dia qualcosa tipo la large rod il drago io non me lo faccio di cà si che te lo fai ma come? con la magia nera eh la magia costru? la vedo difficile fa stighe io spendo tutto perchè tanto vedrei metti lulu con la shojin in campo eh lulu con la shojin l'andemico più grande è il tempo che non è